Buongiorno Elisabetta, oggi siamo qui per parlare del nuovo corso di storia, Generazione Storia, che già dal titolo ci dice qualcosa in più sulle sue intenzioni, quella di avvicinare gli studenti e coinvolgerli nello studio della storia, che poi è la loro storia. Quali sono gli strumenti all'interno del corso che favoriscono il coinvolgimento nella narrazione storica? Per prima cosa l'opportunità di comprendere a fondo i fenomeni con l'aiuto di uno storico, il nostro autore, che nelle rubriche Chiediamoci perché riflette e fa riflettere gli studenti sugli snodi della storia, stimolando quindi il pensiero critico e il ragionamento. Un altro aspetto chiave che direi parla proprio alle nuove generazioni è l'importanza riservata nel testo alla parità di genere, cioè l'ampio spazio dedicato alla storia delle donne e ai personaggi femminili, che vengono trattati all'interno del profilo del testo, quindi con un approccio realmente inclusivo a questo tema. E come ultimo elemento segnalerei le interviste impossibili, sono interviste a personaggi della storia e della cultura, donne e uomini, che narrano in modo informale di sé e del contesto storico in cui sono vissuti. Le interviste offrono quindi uno sguardo personale e anche originale sugli eventi storici e contribuiscono molto all'immersione dei ragazzi nella storia. Quest'immersione è aiutata anche dal fatto che le interviste sono anche degli audio che i ragazzi potranno ascoltare, quindi come delle vere interviste. Mi sembrano tutti elementi molto interessanti. Dal punto di vista didattico invece ci puoi raccontare qualche caratteristica peculiare del progetto? Allora, una caratteristica didattica veramente interessante e nuova di questo testo è l'idea di guidare gli studenti a comprendere davvero e a fondo il testo e il linguaggio storico attraverso un ricchissimo percorso dedicato al rapporto fra l'italiano e storia. È un percorso che è fatto di diverse rubriche, dalle più semplici come quelle di glossario a rubriche come le famiglie di parole, quindi da una parola importante, il suo significato e tutte le parole derivate, alle parole di che ruotano intorno a un tema, quindi le parole del cristianesimo, le parole dell'illuminismo, le parole della rivoluzione francese o anche ai più divertenti perché si dice quindi che partono dai modi di dire della lingua italiana come andare a canossa a lavorare come un certosino per spiegare appunto ai ragazzi l'origine storica di questi termini. Inoltre il tema dell'italiano e storia è ripreso delle pagine dedicate a letteratura e storia, quindi brani di romanzi, romanzi per ragazzi, che sono inseriti in un loro contesto storico e con domande di comprensione del testo. Parliamo ora di educazione alla cittadinanza che occupa un posto molto importante nei curriculum attuali. Diciamo che anche da questo punto di vista questo nuovo corso offre molti materiali. All'interno del testo, nei capitoli, ci sono schede dedicate all'educazione civica, quindi che partono dai concetti base come quello di Stato, Cittadino, Costituzione, per arrivare ai grandi temi dell'oggi come i diritti umani, la salute. Oltre a questo, al primo volume è allegato un testo generazione 2030 di educazione civica, quindi che accompagna i ragazzi in un classico percorso di educazione civica, che è impreziosito da una serie di mappe interdisciplinari che sono utili naturalmente anche per la preparazione dell'esame di terza. E invece Elisabetta parliamo di digitale, c'è qualcosa di nuovo in questo progetto? Sì, io vorrei nominare i video ripasso, che sono una novità che sarà un po' in tutti i nostri corsi quest'anno, ma nella storia sono particolarmente importanti, sono delle clip video nelle sezioni Impara Facile, sono dedicate al ripasso, al recupero e anche alla preparazione dei ragazzi con difficoltà, quindi un vero aiuto da parte del digitale. Prima di chiudere ti faccio l'ultima domanda, se dovessi immaginare i tre punti chiave del progetto, quali sarebbero? Allora, io direi pensiero critico, comprensione del linguaggio storico e naturalmente parità di genere.